Da qualche tempo il Comune ha messo mano ai parcheggi per gli scooter, soprattutto dopo il taglio di quelli in via Santa Caterina da Siena, che non verranno recuperati dopo la fine dei lavori per il nuovo Hotel Hilton. Quelli che sono stati tolti non saranno riposizionati perché lì servirà uno spazio per i portatori di handicap, per carico e scarico, eccetera. Però abbiamo costituito, voglio ricordare, gli stalli in via Carducci, in via Embriani e in altri luoghi della città. Voglio ricordare che questa giunta dall'insediamento ha creato 500 nuovi stalli per scooter. Ma in progetto, appena saremo pronti, anche con le planimetrie, sarà fatta adeguata comunicazione, la creazione di uno spazio per circa altri 250 stalli proprio nei luoghi limitrofi a quelli che sono i luoghi di lavoro o comunque a servizio della comunità. Dopo quelli nuovi in via Timeus, da qualche tempo ne sono stati approntati altri in via San Spiridione, che però, fa sapere l'assessore Polli, saranno provvisori. Nel momento in cui la collega Lodi farà partire i lavori per la ristrutturazione di piazza Sant'Antonio, il marciapiede, lato chiesa, verrà allargato per lo spazio concomitante a quello occupato adesso dagli scooter. Quindi dando anche una valorizzazione a quello che è un bene culturale della nostra città e anche un segno della multireligiosità appunto di Trieste. Lo spazio per gli stalli è quello regolamentare. Molti fanno notare come, soprattutto gli scooter di nuova generazione, siano in realtà più lunghi e più larghi. In quelli nuovi che faremo cercheremo di tararli anche per quelli che sono i turisti, che adesso ho visto girare per città anche molti turisti che arrivano con le moto e quindi cercheremo di rendere, diciamo, flessibili le misure per gli stalli. Ovviamente quelli che facciamo, come li abbiamo fatti questi in via San Spiridione, sono la misura standard prevista dal codice della strada e cerchiamo di ottimizzare gli spazi. Certamente nel tempo il codice della strada è rimasto fermo, gli scooter si sono modificati, tutti hanno il bauletto e quindi cercheremo di commisurare anche questa esigenza. Intanto sul fronte dei posteggi per autoveicoli procedono i lavori a Barcola per i 500 posti al Boveto. Voglio ricordare, oltre alle vetture, ci sarà lo spazio per i camper con il servizio per quello che riguarda le ricariche elettriche, lo scarico e tutto quello che può servire da quel punto di vista. Quindi da lì partirà anche l'installazione di un bike sharing, quindi inizia tutto un discorso di mobilità sostenibile in quello che è il progetto europeo PAES, che è il Comune di Trieste, a cui il Comune di Trieste è aderito, ma per dare un nuovo modo di muoversi non solo ai triestini ma anche a chi viene a visitare la città.